Signore e signori buonasera, sono felice di darvi il benvenuto oltre ai più fervidi e calorosi auguri per un felicissimo 2014 qui al Teatro Comunale di Bologna per questa presentazione dell'opera Parsifal di Richard Wagner che inaugurerà la stagione 2014 tra pochissimi giorni, martedì 14, un'altra data fatidica, il 14-1-14, accanto a me Romeo Castellucci, regista e autore diciamo dello spettacolo di questa produzione che inaugura la stagione del Teatro Comunale di Bologna, quindi un calorosissimo benvenuto e entriamo subito nell'argomento, Romeo ed io dialogheremo per introdurvi a questa opera, a questo titolo inaugurale, a questa produzione, a un certo punto Romeo dovrà congedarsi da noi perché è naturalmente impegnato nel lavoro di prova ma avremo tempo di raccontarvi insieme dopodiché io concluderò questo nostro incontro di oggi, avremo modo e tempo di addentrarci letteralmente perché è come in un percorso labirintico in questo bellissimo lavoro. Intanto voglio dirvi che questo Parsifal che inaugura la stagione 2014 ha una serie di situazioni, per una serie di ricorrenze che abbiamo voluto sottolineare, raccogliere a modo nostro naturalmente, ha un significato molto 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 particolare, è come se fosse un appuntamento con la storia, è come se ce lo fossimo dati cento anni fa, per dire che fra cento anni ci ritroviamo esattamente qui al Teatro Comunale di Bologna a rimettere in scena Parsifal, perché Parsifal di Richard Wagner andò in scena per la prima volta in Italia qui a Bologna il primo gennaio 1914. 14. Sapete che c'era un veto posto dalla famiglia Wagner ad eseguire Wagner al di fuori da Bayhoyt fino al 31 dicembre 1913. Bene, il primo gennaio il Teatro Comunale di Bologna alle ore 15 ha battuto tutti i teatri sul tempo, facendo risuonare il Parsifal qui, in questo meraviglioso spazio, in questo meraviglioso luogo teatrale particolarmente significativo che è il Teatro Comunale di Bologna, in una città che si è sempre distinta per la sua passione per la musica di Wagner, andando a cercare nella musica di Wagner quei segnali, quei semi di una diversità che Bologna ha sempre voluto sottolineare, fin dalla sua inaugurazione con l'opera di Gluck, Il trionfo di Clelia, che avete avuto l'opportunità di vedere quest'anno nel 2013, quando siamo andati a ripescarla per metterla in scena con un'interpretazione molto moderna del regista inglese Nigel Lowry, ha sempre avuto questa sua particolare inclinazione verso il nuovo, il diverso, la ricerca. In una Italia, anche in un paese dove c'era una forte componente, una forte impronta dell'opera lirica italiana, intanto a Bologna si è creata una ricerca verso un sinfonismo di tipo anche italiano, con per forza di cose un andare verso i modelli più innovativi del sinfonismo d'oltrealpe. Quindi Wagner, quindi poi Mahler, quindi tutto il rapporto tra l'Ottocento e il Novecento che è un rapporto cruciale che ha costituito il punto di volta del discorso, del ragionamento sulla musica, sul comporre musica e sul fare musica. Con Wagner si aprono le porte del Novecento, si aprono le porte del ventesimo secolo, si aprono le porte della nuova musica. Da Wagner e soprattutto dal Parsifal discendono moltissime delle tendenze che nel dopoguerra hanno costituito il luogo, l'humus, il territorio delle avanguardie sonore. Lo capiamo e lo raccogliamo proprio da una visione innovativa del Parsifal, quale quella di Romeo Castellucci. Dicevo quindi di questo appuntamento con la storia, cento anni dopo essere qui a riparlare di Parsifal con una produzione così significativa, bella, innovativa, è un fatto molto particolare. Credo che pochi teatri possano vantare orgogliosamente un appuntamento del genere, come appunto un arco che si ricongiunge. Ma non è solo questo, pensate che da quel fatidico primo gennaio 1914, Parsifal è andato in scena solo tre volte qui al comunale di Bologna, l'ultima nel 1963, questa quindi è la quarta volta. E da quel 1963, in cui la diresse Lovro von Matacic, è passato un tempo lunghissimo, ci sono intere generazioni che qui a Bologna non hanno mai avuto la possibilità di vedere Parsifal. Per molti giovani, per molti ragazzi sarà un primo impatto, un primo contatto con questa opera, con questa produzione, con questo lavoro di Wagner. È quindi un evento, direi, che ha un significato molteplice. Non potevamo pensare alla messa in scena di un capolavoro di questo tipo, opera massima e anche estrema, di Wagner, l'ultima opera, tant'è vero che non si chiama neanche opera. Sapete che dall'Ohengrin in poi, per quanto riguarda le creazioni di teatro musicale, di drammaturgia musicale di Wagner, si parla di dramma in musica e non più di opera. Quindi questa realizzazione, questa creazione estremamente complessa non poteva che essere vista, analizzata e affrontata con i criteri che improntano la nostra linea di programmazione e la nostra linea artistica, cioè il nuovo, l'attuale, il moderno, il contemporaneo. Il fatto che Parsifal fosse un modo di pensare alla nostra condizione di esseri umani, di uomini, di abitanti di questo territorio, di questa collettività, in senso propositivo, nel senso di una presa di coscienza. Per questo ci è sembrato che parlarne e ragionarne assieme a Romeo Castellucci fosse la cosa più adatta, la cosa migliore. Chi meglio di lui, del suo teatro, del suo parlare dell'universo e della complessità del contemporaneo, potesse essere la migliore via per affrontare questa complessa e intricata realizzazione wagneriana. Per questo con Romeo Castellucci abbiamo voluto riprendere il discorso che lui aveva interrotto a Bruxelles quando per la prima volta, due anni fa, è andato in scena il suo Parsifal e portarlo significativamente a Bologna, città nella quale Romeo si è formato, città dove ha potuto anche probabilmente cominciare a organizzare determinati percorsi, pensieri, riflessioni proprio sul fare teatrale e dove oggi siamo molto orgogliosi che per la prima volta affronti un titolo di opera lirica in Italia. Ed è molto significativo, è quasi un ritorno. Bologna abbraccia Romeo in questa occasione organizzando uno straordinario percorso attraverso la sua opera generale di artista, di autore, che si snoda grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna, l'Assessorato della Cultura, fino a tutta la primavera, fino al mese di maggio e che comprende altri nove appuntamenti dopo il Parsifal con le creazioni artistiche di Romeo. Per questo è un'occasione per veramente conoscere il suo lavoro in maniera approfondita, per fare del Parsifal una chiave di lettura di un modo di affrontare il rapporto con il palcoscenico, con il teatro d'opera, con la musica, con il suono e con una concezione di drammaturgia totale. Sapete che Wagner parlava di Gesamtkunstwerk, cioè di opera d'arte totale, parlava di sintesi di Wort, Ton und Drama, che vuol dire parola, suono e drammaturgia e teatro quindi, e quindi guardava l'opera veramente come lavoro di sintesi. Ecco oggi, nella nostra epoca, più che mai questo messaggio wagneriano è da cogliere. Opera come forma di sintesi dei linguaggi del moderno, dei linguaggi artistici, come luogo sinergico, come luogo di integrazione di musica, arti sonore, arti visive, arti gestuali, spazio, spazialità e anche uso di prospettive sonore e visive che sono proprie del fare di oggi. La generazione di Romeo e la mia, abbiamo lavorato assieme su territori diversi, lui come autore di teatro, regista, io come compositore, abbiamo seminato, abbiamo lavorato dentro questi segmenti, è impossibile che oggi le nostre creazioni non li riflettano. Siamo passati attraverso le avanguardie storiche, siamo passati attraverso il percorso che il post-webernismo per quanto riguarda la musica, le avanguardie post-decafoniche, la rottura del sistema temperato, dell'organizzazione stabilita nei secoli precedenti ha creato, le avanguardie hanno spostato radicalmente il luogo dell'azione e il luogo dell'ascolto, hanno spostato lo spazio della nostra fruizione dell'opera d'arte. Era impossibile che questo non si riflettesse nella nostra creazione di oggi, saremmo come dire dei ciechi, dei sordi se non ci fossimo appropriati di queste conquiste e non le riflettessimo nel nostro lavoro. Per questo oggi guardare a Wagner con gli occhi di Romeo Castellucci è importante perché fa capire come quel mondo oggi è incredibilmente attuale, come l'opera lirica sia oggi di nuovo tornata un terreno di confronto e di rapporto fra le arti del contemporaneo e quindi non è qualcosa di superato che appartiene a un mondo passato fossilizzato museale, è qualcosa che fa parte di un territorio dove ci sono dentro tante altre espressioni, dove c'è il cinema, la multimedialità, dove c'è le nuove tendenze musicali, le nuove sonorità che anche fanno parte di un pannello di creazione di oggi e i teatri d'opera devono riflettere questo, non possono essere luoghi avulsi da questo. Questo noi lo dichiariamo con questa apertura di stagione così come l'abbiamo dichiarato nell'apertura di stagione dell'anno scorso, del 2013, con il bellissimo Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson, che non a caso ha avuto il premio della critica come miglior produzione del 2013 di un teatro italiano e quindi vuol dire che è giusto e quello che stiamo facendo è nella direzione giusta, che dobbiamo tutti fare uno sforzo per capire il nuovo perché il nuovo ci appartiene e noi apparteniamo ad esso. Ecco, detto questo, questo breve preambolo, scusatemi ma era necessario per entrare nell'argomento, voglio subito andare con Romeo a raccontare il suo Parsifal. Dunque, da qualche cosa potremmo partire di quello che abbiamo detto. Io direi partiamo da questa appropriazione dell'io, del soggetto. Tu hai detto anche oggi, bellissimo tuo discorso nella conferenza stampa, che il tuo Parsifal non è un eroe, forse possiamo dire un anti-eroe, qualcosa di questo genere, per essere semplici. Sì, 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 ti ringrazio. Intanto devo dire che sono contento di lavorare in questo teatro, con lo spirito di questo teatro e con un sacco di persone molto simpatiche con le quali mi trovo molto bene. Quindi a partire dalla maestranze, tutti quelli che lavorano tu stesso, Nicola, gli interpreti straordinari, tutti quelli che lavorano al mio fianco. Lo dico perché il lavoro, soprattutto il lavoro dell'opera, è un lavoro che comporta centinaia di persone. Quindi le cose che vedrete non sono cose che mi appartengono, ma sento di dovere condividere nel bene e nel male, purtroppo, qualsiasi risultato. Detto questo, Parsifal, hai detto bene, è un titolo, hai detto bene quando parlavi di labirinto, è veramente un labirinto di segni, ci si può facilmente perdere, ma è un pericolo, un uguale pericolo è quello di percorrere i soliti sentieri che qualcuno ha tracciato in questo labirinto. Quindi da una parte c'è questa forma estrema di pericolo affrontando questo titolo. O cadere negli stereotipi condiscendenti, oppure perdersi. Ma lo sforzo è uno sforzo che questo titolo richiede. Quindi questo titolo ci riguarda è una forma universale. Quindi non essendo noi tedeschi, essendo noi abitanti del ventunesimo secolo, i nostri riferimenti della nostra vita quotidiana sono molto diversi da quelli di Wagner o dai contemporanei di Wagner. Abbiamo una percezione della realtà molto diversa. Sogniamo in modo diverso. Abbiamo un'esperienza e un'idea di religione completamente diversa. L'idea di salvazione è completamente diversa. La banalità ci caratterizza le nostre vite molto spesso. Quindi il nostro ambiente è fatto più che altro di auto parcheggiate, di immagini piuttosto banali, un marciapiede sporco, eccetera. Quindi non abbiamo una visione... Il punto di vista, voglio dire, deve necessariamente tenere conto di questa nostra realtà. E attraverso questo ho cercato di sentire nel profondo che cosa significa Parsifal. Ma è anche vera un'altra domanda. Cosa significo io per lui, in un certo senso? Trovo che qualsiasi forma di risposta, di tentativo di risposta, debba nascere da questo doppio interrogativo. Cosa significa Parsifal? Cosa significo io per Parsifal? Io in quanto abitante di questa terra, perché trovo che questo tipo di interrogativo è stato posto una volta per tutte da Wagner. Giustamente, come ricordava Nicola, questa opera in particolare ha aperto degli orizzonti totalmente nuovi all'epoca. E giustamente Wagner, riferendosi alla Grecia, ha tenuto in massima considerazione il ruolo dello spettatore. E' dunque il mio. E dunque accettando il fatto che questo sistema complessissimo di segni potesse essere suscettibile di differenti letture, aderenti all'esperienza di ciascuno di noi. La mia esperienza quotidiana, penso di condividerla con voi, è immersa nella banalità della comunicazione, dell'informazione, che è diventata una sorta di rumore bianco, di rumore indistinto, rumore totale. Ecco, tanto è vero che la comunicazione, l'informazione diventa a sua volta un deserto. Quindi siamo persi, non c'è una parola che ci possa guidare. E io ritrovo tutto questo nel Parsifal. Allora, come forse chi ha potuto ascoltarlo si rende conto immediatamente che ci si trova davanti a un oggetto estremamente complesso, perché da una parte ci sono dei momenti di una bellezza da togliere il fiato. Poi questa stessa opera contiene due momenti estremamente lunghi di narrazione. Mi riferisco alle due grandi narrazioni di Gurnemans, che racconta, racconta delle cose. Va detto anche che è un'opera straordinariamente priva di azione, non ci sono azioni. Tutto è raccontato, dura quattro ore, e quindi veramente è molto vicino a una... quasi a un grado zero di dramma, se vogliamo. Il dramma è totalmente interiorizzato. Quindi sono drammi che altri hanno vissuto. La caratteristica di questa opera fa sì che ci sono da una parte degli anziani, oppure degli adepti, una comunità che si prende cura delle cose sacre e che le tiene ferme, separate dal resto dell'umanità. sono i depositari di alcuni segreti, in un certo senso. C'è questa dimensione misterica, per non dire esoterica, che è preclusa ai normali umani, mortali. Ecco, cosa succede? Succede che questa persona, questo... e c'è il logos, in qualche modo, no? E quindi l'agape, ci sono pronunciate alcune frasi che sono frasi sacre, giustamente è un dramma sacro, no? Cosa succede? Succede che arriva questo ragazzo, un vero e proprio outsider, che non sa assolutamente nulla di nulla, non ha questi riferimenti culturali, probabilmente non sa nulla del Vangelo, non conosce nulla, al punto tale che non conosce neppure il proprio passato, non conosce neanche il suo nome. Quindi è veramente un volto tra la folla, è veramente una forza anonima. Allora, ma proprio lui è in grado di vedere le cose, per come stanno. Quindi quando gli si mostra, durante la scena dell'agape, quando viene svelato il graal, quindi il momento, l'apice, no? L'apice dell'agnostico, quindi della conoscenza suprema, della bellezza suprema, è che lui letteralmente non vede niente. Dico, io non ho visto niente, non riconosco niente di tutto questo. E la caratteristica più forte di questo personaggio, abbiamo parlato di eroe e anti-eroe, forse non è neanche un anti-eroe, forse veramente solo una persona dotata di... anzi no, non è dotata di logos, non c'è logos in Parsifal, non ha alcuna frase importante, alcuna sentenza da dire, non indica nulla, questo è veramente straordinario, ed è eroe in quanto non fa, in quanto non dice. E qui ci si trova, forse anche questa è la crisi, le spettanice, molto più vicini a Schopenhauer, forse come filosofia. Ma insomma, lui diventa capace di vedere, al di là delle cose, al di là delle apparenze, di questo culto privo di significato vitale, lui lo dichiara, lo dice, è totalmente onesto in questo, e viene cacciato. Ecco, tu hai ambientato, Romeo, il primo atto del Parsifal in una foresta. Questo è esattamente il luogo, incredibilmente reale, da un punto di vista visivo, una foresta che popolerà, che anima il nostro parcoscenico, nel quale hai ambientato il primo atto. Come mai ti sei orientato verso questa idea? Beh, innanzitutto, come dire, ho assunto letteralmente, letterariamente, anzi scusate, la dimensione nella quale Wagner colloca l'azione. Quindi siamo in una foresta, in una foresta vicino al punto del Tempio del Graal, eccetera, eccetera. Quindi, solo che questa foresta si prende tutto. Non è una scenografia. Il pericolo è piuttosto quello di cadere in una tentazione scenografica. È uno spazio, è un volume, e in quanto tale è un soggetto, un soggetto che parla. Infatti è una foresta viva. È una foresta viva. Infatti i cavalieri, come potete vedere, sono, anche se togliamo un po' di sorpresa, ma vabbè, questo... I cavalieri sono mimetizzati, è una forma di camouflage totale, quindi gli spettatori, in un certo senso, dovranno conquistare, dovranno cercare tra le foglie chi è il cantante, chi è il personaggio, chi sta cantando in quel momento, perché l'ordine dei cavalieri è tutt'uno con la foresta. Si tratta di un mimetismo passivo, cioè di quegli animali, normalmente prede, e quindi che si nascondono per non farsi catturare. Quindi è tutto il contrario di un ordine militare. Hanno paura. Hanno paura del mondo. Si sono ritratti. Hanno paura della vita. La prima sentenza che sentiamo è svegliatevi. Questo è estremamente significativo. Sono messaggi che Wagner ci consegna, che vanno interpretati. Quindi svegliatevi. Cosa significa? Significa che stanno dormendo. È una foresta incantata. E qui si ritorna forse alle immagini alla ricchissima mitologia e folclore germanico, in cui tutto, basta pensare ai fratelli Grimm, tutto si colloca in questo spazio spirituale che poi appunto è la foresta. Ma anche Parsifal e Kundri fanno pensare a Hansel e Gretel in qualche modo. Sì, sì, ci sono molti passaggi di questo tipo. Possiamo fermare le immagini. Volevo tornare all'idea della foresta che però non dobbiamo dimenticare che quando Wagner scrive Parsifal all'anticipa di qualche anno le ricerche sulla psicanalisi freudiana, eccetera. Forse anche la foresta è carica di un significato simbolico da questo punto di vista rispetto all'io, alle profondità, agli abissi dell'inconscio. Sì, certo, la foresta come sappiamo è uno spazio, un ambiente metaforico che è stato utilizzato, basta pensare a Dante, alle ghiere, insomma. E quindi è veramente sempre un'allusione allo spirito, in questo caso alla forma, all'interiorità e quindi ai pericoli che ci possono essere in una foresta, al fatto che le linee prospettiche non ci sono, si è sempre persi nella foresta, per definizione. ci sono animali e i pericoli sono ovunque. Quindi non è una foresta tanto graziosa, diventa sempre più aggressiva in un certo senso, è come se fosse fatto di piante carnivore e in effetti cominciano anche a vedersi delle ossa, degli scheletri nel momento in cui ma forse parlo troppo. Se la foresta è un luogo estremamente tenebroso dove appunto i cavalieri adesso la campanella annuncia che sono è prossimo all'inizio si è prossimo all'inizio della ricreazione della della prova. Se la foresta è il luogo dell'oscurità dove i cavalieri del Graal mimetizzati si cercano tra di loro con delle luci dentro come tutti noi illuminiamo il nostro passaggio dentro un sentiero al buio in un luogo scuro appunto. Il secondo atto sembra essere il suo opposto è invece un luogo di luce ma che luce è? Ecco come hai pensato questo contrasto? Perché mi ha molto colpito il fatto di passare il regno di Clingsor è così fortemente contrastante con l'episodio del primo atto sì il primo atto in effetti è piuttosto tenebroso il secondo atto c'è questa luce questo spazio bianco quindi ha una purezza presunta in realtà un bianco chimico e quindi quasi un bianco dovuto all'operazione del cloro glaciale sì c'è tutta anche una rievocazione della potenza chimica quindi della magia della magia nera e quindi c'è questo aspetto decisamente chimico quasi fosse un laboratorio ma questo bianco credo alluda anche a una visione troppo forte a una luce che ti arriva in faccia quindi una luce che anziché rischiarare acceca non dobbiamo dimenticare che nel secondo atto che Parsifal riceve il nome quindi nel secondo atto c'è questo momento di agnizione così questo chiamavano i greci il momento in cui l'eroe conosce se stesso attraverso un processo di elaborazione in questo caso l'identità di Parsifal gli è data attraverso Kundri naturalmente conosce il proprio nome conosce la propria identità la propria storia questo potrebbe anche questa sapienza potrebbe anche essere eccessiva e quindi è una luce che abbaglia è una luce che quasi ferisce e quindi è la bianchezza non solo della luce ma dell'ambiente dei corpi allude può volere alludere anche questo è una bianchezza chimica è un bianco è un bianco del terrore come diceva Melville dove la bianchezza può esprimere qualcosa di terrificante ma come hai visto il personaggio di Clingsor questo è un fatto che la tua visione di Clingsor è veramente molto potente come l'hai pensato sì Clingsor è uno dei personaggi che mi è più simpatico più simpatico forse quello per il quale provo una grande una grande empatia anche se non l'ho trasformato questa mia simpatia sulla scena in realtà assume le veste di un direttore d'orchestra e quindi la musica c'è un'allusione al potere al potere seduttivo della musica in sé bisogna ricordare che Parsifal in particolare nel Parsifal Wagner mette in scena in un certo senso si potrebbe dire la musica viene ascoltata dai personaggi non solo dagli spettatori evidentemente ma quella musica è prodotta in scena perché il personaggio sia visto nell'atto di ascoltare la musica quindi la musica è un elemento di potere è un elemento di seduzione per questa ragione probabilmente una delle ragioni è per la quale ho trasformato Klingsuro in un direttore d'orchestra quindi colui che che muove letteralmente l'aria che cambia la qualità elettrica dell'aria semplicemente con dei gesti di incantamento sono gesti di un mago quindi la bacchetta del direttore d'orchestra scusate la forse troppo semplice come metafora diventa quella della dello stregone ecco tu hai voluto associare a questo a questa rappresentazione due simboli viventi molto forti sono un serpente un pitone albino e un lupo un cane lupo che senso hanno questi due animali nella tua nella tua visione certamente non sono due creature messe per addobbare no la scena immagino no sono tutto quello che si vede dal mio punto di vista è strettamente necessario quindi non è mai decorativo e neanche scenografico vorrei dire in ogni caso sì sono come ogni signora vi sto parlando ma dovrei tacere il fatto di parlare è una mia debolezza non appartiene a me il lavoro e quindi cerco di lasciare passare delle immagini di evocare delle immagini che non mi appartengono che appartengono penso a ciascuno di noi ciò nonostante posso forse osare di dire alcune cose naturalmente il serpente è un simbolo talmente arcaico da essere da diventare estremamente denso e quindi bisogna circostanziare ogni momento in ogni caso è una sorta di animale totemico che attraversa i tre atti che hanno tre conformazioni completamente diverse è un po' come una trasformazione un po' come nella danza del serpente di Warburg dove si vede veramente la parabola dei possibili significati come ogni simbolo eccede il significato in realtà e quindi può voler dire molte cose allo stesso momento perché appunto questo è l'operazione del simbolo in ogni caso il serpente lo vediamo all'inizio del primo atto c'è un ritratto di Nietzsche sull'ouverture nella sua posa più famosa con la mano così sul mento mentre probabilmente ritratto nel momento in cui sta ascoltando almeno questa è l'impressione Nietzsche si vantava di avere delle orecchie bellissime e devo dire aveva ragione e quindi mi è piaciuto mettergli una sorta di orecchino che è appunto questo serpente bianco che si muove e che evidentemente allude alla morbosità nella musica wagneriana che è splendido ma è contemporaneamente ed è splendido proprio perché è insidiosa quindi questo poi vediamo il serpente che scende idealmente dentro la foresta e si disperde nella foresta e ritorna un po' nel suo ambiente naturale poi lo ritroviamo lo ritroviamo nel secondo atto protagonista quindi è tenuto in mano da da Kundri quindi è il prolungamento del braccio di Kundri è un'arma un'arma che vuole stringere è un pitone quindi è un animale che avvolge ci sono molti nodi nel secondo atto ci sono delle corde dei nodi che si fanno e si disfanno dei corpi che si annodano dei corpi che si fanno e si disfanno del corpo femminile e Kundri con questo serpente insidia 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 parsifal come sapete il serpente è anche il simbolo naturalmente del veleno ma proprio per questo anche della farmacia quindi è anche l'antidoto è il veleno e l'antidoto allo stesso modo esattamente come Kundri Kundri ammorba la comunità ma allo stesso tempo è con lei che porta il balsamo dall'oriente per curare Anfortas quindi prima lo avvelena poi lo cura è con lei che salva Parsifal ma al tempo stesso deve essere salvata da Parsifal esattamente è sempre ambivalente sempre ambiguo sempre polare sempre bipolare non puoi prendere una decisione non puoi prendere una posizione rigida davanti a ciascun aspetto di quest'opera sfugge in continuazione c'è sempre un lato in ombra c'è sempre un lato che proprio in quanto ombroso è il lato che è operante tutto ciò che non si vede è quello che opera in profondità è profondo è molto forte è importante lo spazio che tu hai voluto dare a Kundri che diventa quasi protagonista dell'opera nel quale opera nel dramma nel dramma di Parsifal e con Kundri entra prepotentemente il ruolo della donna in un enclave maschile perché appunto l'enclave del Graal è fondamentalmente popolata di figure maschili dei cavalieri assolutamente sì d'altra parte ancora una volta e forse a maggior ragione in questa opera si conferma il pessimismo sessuale erotico di Wagner come se Wagner avesse composto un enorme affresco dedicato al conflitto tra i sessi non c'è mai congiunzione c'è sempre un momento in cui due corpi un motivo per cui due corpi non possono incontrarsi in questo caso il tentativo l'approccio rappresenta la malattia il morbo quando finalmente la donna riesce a incontrare l'uomo c'è all'ultimo momento la presa di distanza e quindi in questo caso è un anti-edipo in questo caso rompe lo schema edipico che invece aveva caratterizzato le opere precedenti ma in ogni caso rimane una crisi è un segno di crisi ma mi viene da dire che il bacio attraverso il quale che va detto il più lungo della storia dell'opera attraverso il bacio a mio avviso Parsifal riceve la sofia riceve una illuminazione attraverso il bacio riceve ciò che c'è di buono in Kundri probabilmente la luce viene letteralmente illuminato vede vede nel futuro vede nel passato prende coscienza di essere un uomo tutto questo è ancora una volta sotto l'insegna della forza dell'energia femminile è il vero fulcro attorno al quale si muove questa leva immensa di questo dramma non è non è Anfortas non è non è il sacro graal il sangue di cui si parla io penso sia il sangue femminile ciclico femminile e veniamo adesso perché il tuo tempo è limitato e vorrei chiudere questo questo viaggio dentro al tuo passifal al terzo atto il terzo atto possiamo considerarlo una sintesi tra queste due polarità espresse nel primo e nel secondo atto si recupera pienamente la dimensione collettiva anzi si trova la dimensione collettiva se vuoi di una collettività svelata tra l'altro lo dico per voi che vedrete poi questa bellissima produzione è una grande è un grande momento di partecipazione questo terzo atto c'è una parte di Bologna possiamo dire che cammina con noi letteralmente in questi giorni perché partecipa alla realizzazione di questa produzione i ragazzi della Bernstein School of Music i ragazzi dell'Accademia di Teatro Garante Garrone molti altri perché è veramente questo terzo atto un rito collettivo come puoi raccontarlo in poche parole sì infatti ma è un'immagine intanto i tre atti veramente si possono sintetizzare in pochissime immagini anche perché sono immagini che in un certo senso prodotte dal suono quindi non c'è un'ansia di mostrare troppe cose perché è molto importante ascoltare in alcuni atti in particolare nel primo e il terzo atto sono i più contemplativi dal mio punto di vista nel caso il terzo atto è caratterizzato da una marcia da una camminata quindi molte persone camminano si direbbe che questa persona Parsifal è in grado di proprio perché un outsider si potrebbe dire proprio perché riesce a vedere le cose e a non vederne altre e a non dare per scontato nulla mi sembra che sia in grado di spezzare questo cerchio di ferro questo cerchio esoterico si potrebbe dire questo si potrebbe dire che spezza la comunità in favore della società è come se inaugurasse come se potesse dare accesso a un corpo sociale ma non per questo lo si può definire una guida lui in un certo senso non si tratta di cambiare la corona da Fortas a Parsifal non è questo le cose sono cambiate con Parsifal lo dice molto chiaramente il libretto c'è un senso di apertura di cammino uscire muoversi ritornare in un certo senso ad essere viventi questo è quello che ci lascia capire questo personaggio secondo me e quindi molto diverso dalle idee che si tratti di una persona pura o la persona del sangue puro ariano ecco queste sono cose che non hanno valore almeno in questa epoca e poi vediamo certamente anche il ritorno della nostra banalità quotidiana quindi lui rimane ancora una volta da solo come tutti noi credo è un'opera che riflette in modo sconcertante la solitudine una solitudine per me contemporanea l'immagine finale è una strada sporca di una città nella quale lui si trova una metropoli capovolta sì sì è una città capovolta perché appunto non è esattamente un luogo dove andare cioè non è più eccetera bene guarda ti hai veramente invitato letteralmente a entrare nel tuo Parsifal e immagino che tutti siamo desiderosissimi di vederlo e di entrare direttamente in questo splendido labirinto noi ti lasciamo al tuo lavoro Romeo ti auguriamo buonissime prove grazie mille grazie e di continuare magnificamente grazie allora qualche ancora parola prima di concludere dicevamo appunto questa struttura tripartita appunto dell'architettura dell'impianto scenico di Romeo Castellucci che segue l'impostazione appunto dei tre atti di Parsifal ma vorrei adesso dire qualche cosa sulla lettura musicale perché naturalmente se Parsifal è uno straordinario lavoro quello che noi stiamo rappresentando per quanto riguarda lo spettacolo questa regia incredibilmente potente significativa innovativa di Romeo Castellucci la parte musicale ovviamente del Parsifal rimane un riferimento imprescindibile e abbiamo chiesto di dirigerla di interpretarla a uno dei nostri dei direttori d'orchestra più importanti della nuova generazione in Italia che è Roberto Abbado Roberto Abbado è una diciamo una bacchetta molto conosciuta al Teatro Comunale di Bologna lo stiamo più volte incontrando proprio perché ci sembra uno degli interpreti più interessanti di oggi e accanto al direttore principale del teatro Michele Mariotti è uno dei nostri direttori di riferimento in particolare abbiamo raggiunto abbiamo avuto molti importanti riconoscimenti con Roberto Abbado voglio ricordare il premio Abbiati per il Mosè di Rossini al Rossini Opera Festival di tre anni fa e voglio ricordare appunto il premio della critica che è stato assegnato nelle settimane scorse al Teatro Comunale di Bologna per la migliore produzione del 2013 il Macbeth con la regia di Bob Wilson diretto appunto da Roberto Abbado quindi abbiamo visto Roberto Abbado eccellere nell'interpretazione di Rossini e di Verdi lo abbiamo visto e anche eccellere nel novecento in particolare nell'ultimo novecento forse alcuni di voi avranno ascoltato il nostro concerto dedicato a Luciano Berio nella stagione 2013 che è stato anticipato dalla stessa edizione del concerto che ha inaugurato la biennale musica di Venezia all'arsenale pochi giorni prima ecco per la prima volta Roberto Abbado incontra Wagner e soprattutto per la prima volta incontra Parsifal non poteva mancare questo saldarsi di un momento cruciale nel passaggio tra il grande repertorio dell'ottocento tardo romantico e del novecento con l'elemento centrale di questo passaggio di questo giro di boa diciamo di questa volta che era Wagner e che è in particolare il Parsifal quindi a maggior ragione abbiamo chiesto a Roberto Abbado di dirigere Parsifal proprio per vedere come per entrare con lui e con il suo sguardo e con la sua concezione del suono in particolare di un arco molto ampio del repertorio dall'ottocento ai giorni nostri sul progetto di Parsifal non è stata immediata la sua risposta nel senso che da interprete di grande consapevolezza e di grande coscienza ha voluto riflettere molto su questa proposta ma quando ha detto sì il suo sì è stato straordinariamente totale e da quel momento ho visto Roberto Abbado entrare sempre di più giorno dopo giorno in questa bellissima idea di dirigere il Parsifal inaugurare la stagione 2014 al Teatro Comunale di Bologna e di condividere il progetto di Romeo Castellucci vedete è impossibile una idea di questo genere crearla se c'è antagonismo tra i partecipanti a questa avventura è proprio un percorso che si fa insieme naturalmente dagli interpreti le forze artistiche del coro dell'orchestra i tecnici tutto l'apparato produttivo concorre a questa unica grande creazione così come questo si riverbera nella sintonia fra il regista e il direttore d'orchestra e devo dire che è nato veramente un momento importante da questo punto di vista nella realizzazione di questa produzione i due si sono profondamente trovati e la lettura di Roberto Abado è estremamente illuminante perché in questo parsifal terzo lineare perfettamente interpretabile perfettamente intelligibile diciamo così si trovano veramente i semi i segni di questo grandissimo rinnovamento musicale che Wagner ha compiuto dopo la musica di Wagner la musica non è stata più la stessa dopo c'è Wagner c'è Mahler c'è Debussy c'è l'apertura al novecento ci sono le intuizioni delle nuove tecnologie che entrano nella paletta strumentale ma tante cose appartengono già al tessuto cromatico che Wagner aveva impostato la dodecafonia di Schoenberg non ci sarebbe stata senza la grande rivoluzione sonora wagneriana e questa rivoluzione trova il suo punto più alto il suo punto massimo di espansione e di espressione nel parsifal è chiaro che abbiamo dato un po' per scontato che molti di voi conoscessero la storia di parsifal che poi è una storia molto semplice e come diceva Romeo Castellucci quasi priva di azione io vi invito nell'ascolto che farete e nell'ascolto che proporrà Roberto Abado di individuare quelli che sono i temi conduttori che tipicamente appaiono nella nella musica di Wagner i famosi leitmotiv e che percorrono tutto il dramma musicale dall'inizio dal preludio bellissimo una delle cose più belle che siano mai state composte che siano mai state scritte dall'inizio appaiono questi temi vengono esposti e li ritroviamo lungo tutta l'opera trasformati cambiati in una infinita palette di variazioni vi invito a seguire i percorsi vocali le tracce di questo straordinario gruppo di interpreti Parsifal Andrew Richards Kundri Anna Larsson Gurnemans Gabor Brez e tutti tutti gli altri e vedere l'evoluzione anche delle figure che vengono inscenate Clingsor Lucio Gallo che vengono messe in scena da Romeo Castellucci il regno di Clingsor è questa idea di corpi femminili avvolti nelle corde questo rapporto della corda con il serpente emanano l'impotenza di Clingsor che diventa appunto l'angelo negato la figura della 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 troppa coscienza di sé del proprio ego che diventa una specie di apologia della propria frustrazione della propria impotenza nel dominio su figure femminili che vengono trattate quasi come pupazzi quasi inerti quasi prive di una loro di una loro reale vita di una loro reale mobilità tutto questo per rappresentare appunto questo luogo glaciale velenoso in cui irrompe Parsifal e dove e che viene distrutto dalla crescita non da Parsifal ma dalla crescita della sua consapevolezza dalla crescita del suo capire la sua condizione Parsifal il puro folle dall'etimologia del nome Parsifal sapete che nella lingua inglese ad esempio ancora il nome pazzo folle è fool fal parsi il puro il mondo dei parsi è una comunità che viene dall'antica Persia l'attuale Iran che si è spostata in India e che ancora ha una sua precisa identità anche proprio di collettività sociologicamente parlando tra alcuni dei parsi appartenenti alla comunità dei parsi più conosciuti sicuramente c'è Zubin Mehta che tutti conosceranno il grande direttore d'orchestra o il compianto grandissimo cantante rock Freddie Mercury sono appartenenti a questa popolazione e a questo mondo e anche alle tradizioni e alle origini dei parsi si rifà anche Romeo Castellucci in alcuni momenti di richiamo simbolico della sua messa in scena quindi la crescita il puro folle che diventa consapevole di sé che condivide la sua consapevolezza con la collettività con cui marcia nella parte finale verso un non luogo forse questo territorio utopico della città rivoltata questo popolo non in marcia per una rivoluzione ma in marcia avendo acquistato consapevolezza di sé quindi Parsifal li rompe all'inizio nel territorio del Graal nella foresta dove Gurnemans compie le sue abluzioni quotidiane per trovare sollievo dalla ferita della lancia con cui è stato colpito da Clingsor troverà dice la profezia dice una profezia sollievo e soluzione al suo male eterno che poi è il male di vivere che poi è il male di Cesare Pavese che poi è il male della nostra esistenza e dell'esistenzialismo che lo ha segnato troverà troverà sollievo soltanto e fine soltanto quando arriverà il puro folle questa comunità pensa di avere Gurnemans che è il diciamo colui che presiede alla comunità del Graal Gurnemans pensa per un momento che quel fanciullo che è arrivato alla loro comunità avendo ucciso un cigno sacro proprio perché non sapeva di uccidere qualche cosa che era sacro a quella comunità proprio il suo non sapere di cui parlava Romeo la sua caratteristica la sua forza è il non conoscere questo giovane si rivelerà che non è ancora Parsifal perché non è cosciente di essere Parsifal potrebbe essere ma non è alla fine secondo loro perché il suo non sapere la sua inconsapevolezza è troppo grande è troppo eccessiva va bene essere il puro folle va bene che il puro folle dovrà arrivare ma forse questo è veramente al di fuori di ogni cosa e quindi non lo riconoscono anche questo fatto di vedere di avere colui che sarà che rappresenterà la salvezza e non riconoscerlo è un altro fatto che naturalmente si riverbera nella storia di tutta la nostra cultura e delle nostre tradizioni letterarie sarà il passaggio attraverso il regno di Clingson il regno opposto a quello del Graal dove le fanciulle fiore servono come catalizzatori per i cavalieri del Graal tentatrici per distruggerlo sirene come le sirene nell'odissea di Omero ma anche come le tentatrici nelle varie forme naturalmente di letteratura che appaiono continuamente in tanti luoghi diversi anche nella letteratura fino alla letteratura dei nostri giorni quindi questa figura se vogliamo eterna della tentazione è l'opposto ed è il regno che caratterizza il secondo atto questo regno livido pervaso dal veleno di Clingsor che verrà appunto distrutto per lasciare spazio poi nel terzo atto a questa marcia finale verso questa sorta di aperto è molto bello questo rapporto questa frase che ha detto Romeo Castellucci un popolo una collettività in marcia verso l'aperto e in questo lui ha citato Nietzsche naturalmente citazione obbligata anche nel rapporto conflittuale con Wagner sappiamo che il Parsifal fu l'opera fu il dramma con cui Nietzsche si distaccò definitivamente da Wagner scrisse due importanti testi il Nietzsche contro Wagner soprattutto in cui esprime espone quali sono le sue divergenze rispetto a quello che una volta era visto da lui come l'emblema semplicemente della musica dell'essenza della musica e del dramma musicale soprattutto appunto ha citato Nietzsche ma ha detto ancora di più Schopenhauer e questo è un altro riferimento molto importante ma io voglio aggiungere un terzo che è Rainer Maria Rilke il suo Ins Freie verso l'aperto elemento fondamentale che collega Wagner con le poetiche anche della contemporaneità penso al Prometeo di Luigi IX ad esempio e a questo Ins Freie da lui ripreso accanto ai testi di Walter Benjamin ecco vedete quante cose ci possono far capire i collegamenti e la forza che ha il Parsifal rispetto al mondo che è venuto dopo e rispetto al mondo che veniva prima pensate che Wagner scrive Parsifal dopo una lunghissima gestazione che addirittura comincia nel 1848 quando lui ha avuto le prime intuizioni scriverà Lohengrin Lohengrin in qualche modo è prequel e sequela anche possiamo dire di Parsifal tant'è vero che Lohengrin è figlio di Parsifal quindi l'idea di Parsifal comincia ad affacciarsi ritornerà prepotentemente nel Tristano Isotta che ha molti elementi in comune la ferita di Tristano la ferita di Anfortas e quindi alla fine dopo questo lunghissimo percorso all'inizio degli anni 80 diventa concreto in un viaggio lunghissimo che accompagna Wagner dall'inizio della percezione di Parsifal a Marienbad nel 1848 fino a Palermo dove finirà all'Hotel de Palme di scrivere questo straordinario dramma ecco questo lungo viaggio che dura oltre un trentennio attraversa tanti luoghi tanti spazi attraversa tutta la nostra penisola e in questo viaggio in questi viaggi Wagner raccoglie elementi diversi li trasferisce quello che lui vede quello che capta lo inserisce nel Parsifal è a Siena vede il Duomo di Siena si innamora e vuole ambientare nella sua testa pensa all'ambientazione della scena della Gap del Graal del primo atto nel Duomo di Siena va a Ravello a Villa Rufolo vede i giardini si innamora di questi giardini vede la possibile ambientazione nella sua testa del regno di Clingsor ecco tutte queste suggestioni fanno parte le vedete trasparenti attraversare la musica fanno parte di una storia anche se la scena è un'altra non importa noi dobbiamo raccoglierle e capire quanto grande sia la prospettiva di un'opera che raccoglie ciò che l'artista che il compositore ha voluto captare e ciò che oggi racconta invece alla generazione del nostro tempo ecco appunto sintesi dicevo di quello che sarebbe venuto dopo e di una lunghissima tradizione letteraria le radici di Parsifal sono nella letteratura del primo secolo dopo l'anno 1000 nel 1100 quando Wolfram von Eschenbach scrive Percival e Schretien de Troye scrive Il Percival e questi elementi di questo rapporto con l'idea di Parsifal fanno parte del progetto scenico a cui noi assisteremo in quanto il progetto di Castellucci non è il racconto di Parsifal ma è un progetto su Parsifal e sui molteplici significati di Parsifal Parsifal arriverà a liberare Hanfortas toccandolo con la lancia che ha rubato letteralmente a Clingsor distruggendo il suo regno sarà a quel punto consapevole il puro folle avrà la possibilità di essere riconosciuto da Gurnemans e dall'enclave del Graal come colui che libera Hanfortas dal suo male e diventa il detentore del segreto del Graal ma questa non è un ascesi che viene rappresentata appunto in forma eroica ma è una forma di consapevolezza che viene condivisa e la solitudine di Parsifal diventa la solitudine di ognuno di noi nella complessità e se vogliamo nella diversità delle metropoli del nostro tempo dove l'individuo è solo davanti al proprio destino ma diversamente da prima ora sa di che cosa è fatta la propria coscienza e quali elementi trarre per poter costituire un antidoto al veleno della propria solitudine ecco tutti questi elementi li cercheremo li troveremo in una rappresentazione straordinaria a cui naturalmente sono felice che voi possiate assistere e mi auguro di avervi dato elementi sufficienti per poter trovare motivi di interesse in questa bellissima inaugurazione grazie a tutti e ci vediamo sul palcoscenico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti